Ed ecco a voi un personaggio tutto nero, è il ninja delle ombre, ma voi lo volete sapere come si chiama il ninja delle ombre? Avete indovinato? Noob Saibot si chiama. Voi dovete sapere che Noob Saibot è tutto nero e non riuscirete a vederlo di notte. È impossibile vederlo di notte perché è tutto nero, è il ninja delle ombre. No, guardate schifo quanti danni ha ricevuto Noob Saibot, però a differenza del sangue rosso degli umani, ha tutto il sangue blu, guardate, ha tutto il sangue blu Noob Saibot, guardate dietro la sua schiena. È ridotto male Noob Saibot perché io non lo sapevo che aveva il sangue blu. Le origini di Noob Saibot sono ignote, ma è probabilmente un re Venant, un guerriero caduto riportato in vita dallo stregone del regno occulto per perseguire un fine oscuro. Noob è stato incaricato di assistere Shao Kahn nella conquista della terra, fedele servitore e recente arrivo tra le fila della fratellanza dell'ombra. Obedirà a Quan Chi, suo maestro, per completare la sua missione, ma attende il suo momento. Noob Saibot persegue un proprio obiettivo oscuro. State attenti perché Noob ha tutti i suoi obiettivi oscuri e questo ve lo farà anche a voi. State attenti perché è l'ombra che di notte va e semina il panico in città.